Il pallone sotto la stiera e salva, dall'altro lato, minuto 16, Icardi in area di rigore, Marchetti cerca il pallone, trova forse il piede dell'attaccante Nerazzurro anche in questo caso, non ha dubbi di massa, secondo cartellino rosso della gara. Fuori close, dentro Etrit Berisha, Inter che dopo Udine si ritrova ancora una volta a giocare 11 contro 9, Icardi dagli 11 metri, Berisha a prendo, respinge la confusione del numero 9 Nerazzurro, finora 4 su 4 dal dischetto per lui, salva il punteggio di parità il nazionale albanese che riceve il 5 alto da Brafait.